Icon palestre a Montesilvano il nuovissimo centro fitness in via ruffilli 1 Icon palestre aperto sette giorni su sette con Icon palestre avrai tutto il fitness che vuoi da soli 19,90 euro al mese Hawaii viaggi e vacanze di anna bruna gian sante via gabriele d'annunzio 70 villa nuova dice pagati pescara vuoi noleggiare un'auto pronto rent l'auto noleggio vicino casa tua guida sicura e senza problemi ciao a tutti amici di rt radioterapia.it ciao angela e ciao giulio siamo qui all'ultimo appuntamento di questi tag sportivi del 2022 beh cosa dire sicuramente è stata un'annata particolare fondamentalmente perché per la prima volta i mondiali si sono svolti d'inverno in un paese caldo quindi la sorpresa di Qatar 2022 le sorprese in campo con il marocco quarto classificato cenerentola di questo torneo il brasile uscito agli ottavi e con contro la la croazia l'argentina che meritatamente ha trionfato in questa competizione e la danimarca che è stata un po' la denunzione del mondiale Qatar 2022 i grandi gesti della squadra giapponese tutte cose che vi abbiamo raccontato nei precedenti podcast e che hanno caratterizzato e un po' come piace a me ormai penso che avete capito qual è il mio genere di trattare il mio modo di trattare lo sport tutte quelle cose belle e uniche che rendono appunto lo sport unico nel suo genere dalle emozioni che ci caratterizza sono successe tante cose in quest'anno sicuramente una cosa molto molto particolare è stata il curling avere cura di determinati posti di andare però non si sa dove per questa puntata è tutto arrivederci alla prossima grazie a tutti 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 grazie a tutti